Ora vediamo il servizio di Francesco Rossi in merito all'inaugurazione di una nuova casa per la Fondazione Musicale Biagio Abate di Biceglie. La Fondazione Biagio Abate continua a crescere e la nuova sede lo testimonia. Certamente, è per noi un motivo di orgoglio presentare ai nostri amici questa nuova sede dove da settembre si è trasferita all'Accademia Biagio Abate che conta quest'anno oltre 100 allievi nelle 18 discipline musicali ed è veramente un vanto perché qui a Biceglie avere numerosi corsi come quelli che abbiamo potuto attivare sembrava essere una cosa improbabile. Oggi è una realtà, speriamo di poter crescere e avere ulteriori ambizioni. Inutile a nascondere che l'obiettivo finale è quello di avere finalmente anche nell'area nord barese, nella provincia Abate, un conservatorio. In effetti noi soffriamo della mancanza di un conservatorio perché la provincia Abate è cresciuta notevolmente tant'è che noi qua abbiamo numerosi ragazzi che studiano archi e ovviamente fanno qua soltanto i pre-accademici mentre potremo benissimo ambire a fare il conservatore di primo livello. Noi ci siamo già proposti e l'iter è molto lungo e laborioso, contiamo nelle istituzioni perché abbiamo anche noi bisogno di una mano. Biceglie continua a crescere anche sotto l'aspetto musicale? Sì, è una crescita culturale a tutto tondo, a 360 gradi, sistema teatrale, abbiamo anche aiutato produzioni di film importanti che hanno promosso anche la città. Quindi Biceglie si impegna nella cultura e soprattutto è di un certo livello. Oggi vediamo qui che c'è una continuità rispetto a quello sforzo che abbiamo fatto a livello provinciale per portare il liceo coreutico a Biceglie con una fondazione che con il nostro sostegno cerca di promuovere il valore della musica per i nostri giovani che diventa anche opportunità di lavoro, poi per il tempo opportunità di inserimento in percorsi di crescita culturale ma anche professionale.